Simona Ventura ha commentato in maniera non del tutto corretta un video durante l'intervista rilasciata a Maurizio Costanzo. Il video mostrava la lite di Arisa contro Simona Ventura ad X-Factor. Subito dopo Simona si è lasciata sfuggire una frase che sinceramente ci ha lasciato un po' sconvolti. A questo punto ci aspettiamo quantomeno una replica di Arisa. Per restare aggiornato sul Gossip iscriviti al nostro canale YouTube e seguici sulla nostra pagina Facebook.